Enzo Maiorca Infatti perché papà non è stato soltanto uno sportivo che si è limitato a accumulare un metro dietro l'altro, un record dietro l'altro, papà è stato un uomo di mare a tutto tondo e in quanto tale ha avuto anche la prerogativa, io direi immensa, enorme, di dare voce al mare, agli animali marini che voce non hanno. Papà è nato come cacciatore perché andava sott'acqua in apnea per pescare, così ha iniziato. Ha poi nel 1967 abbandonato il fucile, appeso il fucile a un chiodo, in seguito a un episodio doveva pescare una cernia e la cernia si era ben messa, ben posizionata nella sua tana. Lui fece scorrere la sua mano sotto il ventre dell'animale e gli arrivò nella mano il cuore impazzito della bestia. In quel momento si è reso conto del fatto che i pesci non parlano, non sentiamo le loro grida di dolore, ma provano dolore così come tutti gli altri animali. E quindi è stato il portavoce del mare, per questo la sua fama ha superato le barriere del nostro mare ed è andata ovunque. Voi famiglia Mallorca, lei adesso a capo tra l'altro del consorzio che si occupa del Plemirio, avete forse creato a Siracusa la sensibilità nei confronti del mare, della sua tutela, del considerarlo veramente risorse? È un vostro lavoro che è inarrestabile tutt'oggi? Sarebbe un onore essere riusciti a fare tanto e in realtà c'è ancora tantissimo da fare. Proprio ieri sono stata a fare un tuffo a ora di pranzo in area marina protetta e c'era un signore che avrebbe voluto prendere una stella marina. Al di là del fatto che siamo in area marina protetta e non si tocca neanche una lumachina, una tellina, una patella, ma anche altrove perché prendere una stella marina? Che senso ha? È un animale, soffre, come se sulla terra prendessimo e uccidessimo un uccellino. Non ha senso, non si fa. Questa mattina siamo qui perché si presentano le iniziative che avete organizzato, che avete studiato per ricordare l'anniversario di quei 101 metri e record. Sì, è una giornata che verrà dedicata al mare e mi piace pensarla come una festa del mare. Inizia la mattina con una veleggiata non competitiva proprio qui davanti, davanti al Castello Maniace e continua sempre nella mattinata grazie alla disponibilità dei diving accreditati presso l'area marina protetta con lo snorkeling gratuito e libero per chi avesse voglia di farlo, ovviamente nelle acque del nostro plemmidio e per avere il suo culmine poi con l'inaugurazione di questo affaccio sul mare che il sindaco, il comune di Siracusa ha voluto fortemente, è dedicato a papà. Affaccio Enzo Maiorca, lo spazio che c'è proprio davanti alla nostra area marina protetta viene a lui dedicato. Un affaccio sul mare intitolato a papà è per me una cosa meravigliosa. Ci saranno i conti del mare dei fratelli di Modica quindi proprio il racconto del mare e un ricordo di papà realizzato da Massimo De Angelis un inviato allora della RAI ai tempi dei record del 1988. L'area marina protetta rappresenta un'eccellenza proprio dell'attenzione al nostro territorio, al nostro ecosistema in particolare è un'area nella quale molti di noi, io ad esempio sono proprio cresciuto e quindi quei fondali, quelle coste e quegli scogli fanno parte della nostra identità sono una parte di città che in realtà siamo riusciti in qualche modo, seppur magari tardivamente, a tutelare ma è proprio grazie a questa area marina che oggi quei mari sono ricchi di flora e fauna marina quella flora e fauna marina a cui Enzo Maiorca ha dedicato splendidi pensieri e a cui ha dedicato gran parte della propria vita.